Grazie per la visione! Grazie per la visione! Il suo bene e il suo male. Grazie per la visione! Dov'è la grotta? Devi attraversare tutta la città e dall'altra parte. Grazie! Finalmente ci siamo! Ecco, ma sto a trovare la cosa ricorda. Sono attirando in momento che non si sa mai quelle ragazze di rosario. Per quanto non lo posso avere domesticate, l'istinto non è l'istinto. La prudenza non è mai proposta. A me mi conosce. Non è l'istinto, l'istinto non è l'istinto, l'istinto non è l'istinto. Fortuna! Fortuna a me! Ehi, espringati! Ho vinto! Ora paga! Ciao, Jasmine! Ciao, man! Non dargli troppo da mangiare! Mustafà! Il solito! Arrivo! Arrivo! Tira! Così che ho vinto la scommessa! Ora beviamo! Salute! Ecco l'altra caraffa! Salute! Non dargli troppo da mangiare! Vedi che carico! Puoi partire! Il carro è stato caricato! Cuccia! E cos'è il primo? No, è già il terzo in mezz'ora! Ah! Allora oggi è una giornata fortunata! E cos'è il terzo in mezz'ora! E cos'è il terzo in mezz'ora! Piano con quel martello! Ho finito! Ho finito! Come sta uscendo? Bene, bene! Buonasera a tutti! Buonasera! Buonasera! Buonasera a tutti! 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 Ascolta! Siamo vicini! Paxo Minibus! Bone Voluntatis!